Mi hai in squadra? Alcuni vecchi amici? Alcuni vecchi amici? Un pacchetto completo di moz sul mondo di Call of Duty così sicuramente ci potremo divertire tantissimo durante le live dove giocheremo insieme su Twitch a Modern Warfare. Mi scuso come sempre ragazzi perché ultimamente non so perché YouTube continua a dare problemi. Anche ieri sera ho fatto un video dell'ultimo minuto per farvi sapere della beta che dovrebbe essere annunciata questa sera e come sempre mi ha dato problemi di audio. Ho scritto poi il riassunto della notizia nel primo commento ma adesso ne riparleremo bene con tutti i dettagli. Vi ricordate era apparso diverso tempo fa un invito in 3D che era stato mandato ad Influencer, Stampa e quant'altri per l'evento del primo di agosto dove sarebbe stato annunciato il multiplayer? Bene, quell'invito ragazzi è stato aggiornato. Ve lo faccio rivedere perché è stato riportato ieri sera proprio da Charlie Intella. Bene, all'interno di questo video è possibile vedere soltanto la modalità gunsmith. Ma perché soltanto la modalità gunsmith? Perché i rumors sono certi al 100% tra cui anche lo stesso TGR che stasera sarà annunciata un'altra beta oltre quella di settembre. Una beta che arriverà adesso nel mese di agosto. Una beta che tratterà soltanto la modalità sparatoria 2v2. Infatti è possibile vedere in questo video ben 5 mappe della modalità gunfight. 3 che abbiamo visto nei vari eventi e 2 nuove mappe che prendono il nome di Speedball e Docks. Speedball in molti la avvicinano addirittura a Shipment perché la forma classica quadrata fa notare ulteriormente la somiglianza. Se ben vi ricordate TGR aveva annunciato alcune settimane fa che Shipment sarebbe stata riprodotta all'interno del gioco in una variante completamente diversa e aveva messo infatti le immagini di alcuni muri che sarebbero stati ritoccati. Bene, infatti Speedball un po' la ricorda. Bene, perché questo invito stranamente è stato aggiornato proprio ieri in vista appunto dell'evento che si svolgerà questa sera e soltanto con la modalità 2v2 i rumors sono certi quindi che questa sera sarà annunciata un'altra beta multiplayer una beta che dovrebbe arrivare il 22 di agosto quindi giovedì su PS4 e dovrebbe terminare o il 26 o il 27 una beta appunto che proporà il 2v2 con 3 mappe multiplayer quelle che abbiamo visto appunto nei vari eventi Speedball e Dox secondo TGR invece arriveranno praticamente al lancio del gioco una beta secondo i rumors vi dicevo che dovrebbe essere un'esclusiva PS4 ma una beta che dovrebbe essere open quindi disponibile a tutti quanti quindi indipendentemente di avere il codice preorder oppure no e poi ovviamente il 12 di settembre altra beta però con le classiche modalità che abbiamo visto e sicuramente ci sarà qualche modalità nuova come magari una 10 contro 10, una 20 contro 20 questa sera sicuramente ne sapremo di più infatti vi aspetta alle 18.30 su Twitch per questo live evento inoltre è stato confermato da TGR che a brevissimo sarà annunciato anche la Battle Royale che sarà giocabile in solo duo, trio e addirittura in quartetti quindi altra grossa novità in arrivo all'interno di Modern Warfare qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo ad un prossimo video